Andiamo senza perderci in chiacchiere Eccoci qua Molto molto bene Molto 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 bene Ah col fatto che ultimamente sto giocando sul main, su League of Legends Le code anziché durare tipo 7-9 minuti durano 30 secondi Di conseguenza non sto più grindando punti tra un game e l'altro di LoL Ce ne faremo una ragione ragazzi, ce ne faremo una ragione Una cosa è certa, stiamo andando avanti con la nostra grande e potente scalata dei 100 piani Il minigioco di Tag Force 2 che ho scoperto piacermi parecchio, devo essere onesto Stiamo spendendo tutti i soldi per fare questa challenge Per chi non sapesse cos'è, devi superare 100 piani in questo minigioco Siamo al piano 68, quindi è per il 69 Evviva Evviva Che deck abbiamo? Fammi vedere, non è quello giusto? È quello giusto, abbiamo il deck burn Perfetto Andiamo avanti È ora di scuola? No, non è ora di scuola E allora ne facciamo così e facciamo fine della giornata e vediamo dove eravamo rimasti Siamo dei rimasti, si immaginate giocare a Yu-Gi-Oh 2007 nel 2024 Ritorno in classe Ah, oggi poi ho fatto leg day, quindi abbiate pietà di me se mi vedete un po' più moscio, se mi vedete un po' più eh Però ho fatto leg day e oltretutto ho iniziato a introdurre gli affondi bulgari Che penso essere veramente l'esercizio potrebbero dire più faticoso in assoluto Dal punto di vista soprattutto psicologico Consiglio di giocare ai giochi come questi Se conosci poco Yu-Gi-Oh Fresh, assolutamente sì Ma più che altro perché tu devi pensare a una cosa Yu-Gi-Oh come oggi è molto più complesso Sia a livello di carte che di meccaniche Rispetto a come era ai tempi qua Qua impari molto più facilmente Poi oh, giustamente in 25 anni quelli che sono si è evoluto Ed evolvendosi è diventato quello che è adesso Assolutamente sì, Merobbs, affondi bulgari sono così Ah, comunque le scale sono 10 in totale che possiamo ottenere ma partiamo con 5 Allora, perché non sapesse cos'è sta roba qua Praticamente sono 100 piani che vanno superati probabilmente in sopravvivenza Quindi se perdi vita non la recuperi eccetera eccetera E l'obiettivo è quello di andare così, scendere le scale e passare al piano successivo Questi sono i nemici che ci sfideranno E ogni volta che c'è un ponte lo passiamo obbligatoriamente Quindi dobbiamo capire il pattern che abbiamo Passo a sinistra vediamo le scale Che sono le scale possono essere messe qua Vedete che ci sono i quadratini con le frecce In modo tale da fare un ponte provvisorio Però ovviamente si consumano, non potete farlo all'infinito Mentre basta essere assistendo le gemme Una volta che ottieni 4 frammenti dello stesso colore ottieni una gemma Noi abbiamo quella azzurra e quella verde Non mi ricordo l'azzurra che cazzo fa Ah, c'era doppia il numero di scale, è vero Possiamo avere fino a 10 scale anziché 5 Quella verde ci fa recuperare vita Quella verde è buona, quella azzurra è abbastanza useless Ma vabbè, allora vediamo un attimo il pattern Cosa pensi di ultimi aggiunti di Yu-Gi-Oh Tipo mostri pendurum link e così? A me non piacciono ma non è che sia per forza un male A me personalmente non piacciono, non mi interessano Ok, il pattern va bene Partiamo Abbiamo 3300 life points E abbiamo un deck barn ovviamente Perché dobbiamo shottare il nemico il prima possibile Tac E... Ok Abbiamo vinto però Ok aspettiamo che peschi Voilà Arma segreta Ah, tutte queste sfide saranno velocissime ovviamente Perché ci hanno pochi life points i nemici Hinotama Eh, Hinotama Non la metterò Una carta barn molto molto debole Ok Tac Tac Poi settiamo germe gigante Settiamo questo E passiamo Nooo Ma come non vi l'uomo dello scambio? Ma te sei pazzo Ma te sei completamente impazzito Io ho paura di attaccare Perché se è la roba che spacca Poi sono un cazzi miei Capito? Cos'è? Ritorno a fu... Cos'è sta roba? Polimentizzatore di danno Quando l'effetto frigidiano attivo Nulla Deve azione effetto In un giocatore pesca una carta What the fuck? Ma pensa te Ok Niente Inizio ad avere anche dei mazzi Molto cancerogeni Inizio e li ammazzavi con letteralmente una carta Come è andata al local? Quale local? Giorgio L'ultimo è stato martedì scorso Cioè martedì è stato Quello lì intendi? Ma non particolarmente bene Cioè Però l'unica cosa In negativo Emozionante Della serata È stata Che abbiamo beccato Una ragazza Per terra Sul marciapiede Con la faccia per terra Un po' insanguinata Abbiamo chiamato l'ambulanza Diciamo emozionante Ma nel senso sbagliato Ok Sono andato a noi mazzi Ma ho riportato abbandono Non è andata molto bene Ma ho pescato particolarmente male Perché il deck non è debole Ci ho vinto dei loca con quel mazzo Batteria Sì Oh non saprò mai cosa è successo Lei non Non aveva realizzato Cos'era successo Abbiamo chiamato l'ambulanza Appena arrivata l'ambulanza Ha detto andate pure a casa E niente Quindi Vallo a capire Ok vediamo un po' Così Poi si va di qua Poi si va di qua Poi si va di qua Di qua Preciso Andiamoci Ci becchiamo anche qualche bel box Purtroppo dobbiamo combattere un pochino Quel coso fa molto male Mamma mia Teriamo ocazzi Teriamo questo No ho sbagliato Devo settare marshmallow Vabbè Ah lui non può attaccare Quindi La buona notizia è questa Allora non attivo Va bene Se no Avrei dovuto tirare torrenziale qua Esatto Mi signo Si tira avanti con la dipendenza In questo mio gioia Siamo al piano 69 69 Che Che Ok Allora Pensaggio Un attimo di pensaggio Ah io lo evoco E passa Siamo nei guai Con lo scaffo Siamo nei guai Minchia al Mobius Ma poi perché non mi ha spaccato il cannone Mi ha spaccato quella settata Eh aia E niente Situazione brutta Ce l'abbiamo fatta Ma 500 life points Non lo so Bacura Grazie a me Derr sub Bello Molto molto gentile Ah la situazione è qua Ecco dobbiamo fare altre due sfide Sperando di beccare carte Per curarci A sto punto Minchia painful choice Ma cosa mi tocca vedere Mi darò sicuramente Il drago mega roccia Mi sa Ok Ok questo non l'attivo Ok Davvero mi signo Dai Ultima sfida del piano Dai Dammi qualcosa per curarmi A porta Cazzo mi tocca Oh Gesù Cristo Madonna E niente Situazione Ne ho viste di migliori Ne ho viste Indubbiamente Delle migliori 20 C'ho la mano piena di mostri Quando ho mattato la carta Che butta Manda al cimitero Tutti i mostri Ti pare Allora Quello è il 2100 Li tiriamo cilindro magico C'è una nuova notifica Fieri che l'ho E a questo ci facciamo ruota Incubo Minchia se avesse evocato Quello avevamo perso Ragazzi Avevamo perso E ci evocava quel tizio Che culo Avevamo perso Però la I Quando vede Inverte destino Non so cosa sia Sarò onesto Vai Due bauli Ti prego Trova Trova il riso Oddio Per una volta Quanto ci dà Come 300 Ma che schifo Ma pensavo di Vabbè Che merda Ciao Emug Grazie mille del sub Bello Grazie Grazie mille Soldato cannone Toon Dici Io mi sembra un po Bruttino in realtà Allora Bruttino L'unica cosa bruttina Qua è il tragitto Che devo fare Fatemi pensare Ma a me è bordello Ci vediamo A un prossimo video Roar Tigrotti A quale situazione Già Non ho tanti Left points Ciao Trumba Grazie mille Grazie mille del prime Bello Cosa pensi Pad victrix Game vict Non ho idea Di cosa sia bro Non ho la minima idea Di cosa sia Allora Se io metto una scala qui Vado a sinistra Uno Due Vado qua Vado qua 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 Orribile No Dobbiamo trovare un altro modo Dobbiamo finire Qua In uno di questi due Dobbiamo finire La cosa migliore È arrivare qua Dove c'è il baule rosso Vediamo un po' Che giro dovrei fare Mi basterebbe Essere sulla destra Ok Di merda Ma what the fuck Orribile 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 Proprio No No Non glielo attivo Cessate il fuoco Non serve Peccato che l'altro germe gigante Ce l'ho in mano Vabbè Per sicurezza Faccio così E faccio così Eh immaginavo Ho detto Metti caso che c'è qualcosa Ma porca Puntana Eh Allora Meno male che ci ho pensato Ha perso comunque Perché ci ho pensato Minchia Che fatica Bella Inga Buona vacanza Immagino Vienna Com'è se è Vienna Vacanza studio Lavoro Avventura Ok Ci siamo qua Vai vai Camminando Recupero i life points In realtà la gemma verde È tanta tanta roba Hai ricevuto danno Grazie Grazie 400 life points Si dà Molto divertente Incredibile Proprio quello che ci voleva Tanto non sono già Nella merda Vero Niente Ho perso 400 life points A gratis Ma porca Puntana Oh io devo pregare Che non abbia nobiluomo O cose simili Ok Non ha Oh Oh Buono Ah ho capito Inga Ho capito Allora Se io lo scopri Mi tira qualcosa Sono cazzi miei Questo è il problema Quindi io per sicurezza Setto e basta Cioè piuttosto aspetto Che attacchi Ma se è cenato da solo Retos Vabbè No noi non lo evoco Che sennò mi prendo i danni Ok Molto bene Il cambio di regione D'asco Fonsignori Boh manzo Non ho interesse Sinceramente Sono contento Per lui Allora qua siamo a destra Poi a sinistra Poi a destra A destra A sinistra Si esce Porca miseria Che cosa brutta Allora fermi Pensiamo Il baullo rosso Ci piace Il baullo rosso Ci ha fregato In passato Qua posso mettere Due scalette Siamo E siamo a posto Prendiamo il baullo rosso Poi scala a destra Scala a destra Due bauli blu Ok Bellissimo questo È bellissimo questo Ragazzi D'addio L'unico crevifieri Che è la nuova zona 30 Senta si Puterei giù Da spaccare tutto Beh Ultima offerta Una carta decente Cioè non penso Giocherò Ma GG Insieme ai congegni Not bad Andiamo un po' C'è qua Una scala Molto molto bene A chi non piacciono le scale Piano 72 Ai disabili Giustamente Non piacciono le scale Allora di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Combattiamo 64 nemici Non è una buona idea Valutiamo un altro percorso Possiamo arrivare anche a destra O a destra A sinistra Che in tre centrali Si esce Se metto una scala A destra Facciamo così Così Perfetto Combattiamo un po' Di nemici Ma Va benissimo Ok Ci curiamo anche un po' Io sto giocando Senza il massimo Dei life points Non è piacevole Ok Non so cosa sia Quella a fare qua Sarò onesto Vabbè Allora Recuperiamo Life points Perché tanto Abbiamo vinto E siamo di nuovo full Molto molto bene La cervicale come va Dovrei stare più dritto Il fatto che non è facile Stare dritti Ve lo assicuro Però ad alzare Ok La cosa migliore Per stare dritti È alzare il più possibile La La sedia In modo tale da avere Le braccia giù Perché Se avete la sedia basso La scrivania alta Le vostre braccia Anziché stare così Stanno così Vedete Più è alta Più fate più fatica Vi ingobbite Quindi la cosa migliore È avere la scrivania bassa E poi stare dritti Con la schiena Però Uno deve anche ricordarsi Perché La cosa che avviene automatico È quella di Accasciarsi Capito Ok Allora Così 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 E così Oddio Forse è un po' Too much No no Va bene Va bene Ok Cannone E C'è stato il fuoco Qui ingobbisco A tavoli bassi In realtà È basto cobra Perché sbagli la postura Cioè Tu vuoi stare dritto Così Ok Come fai Se il tavolo È alto Non puoi Perché Ti si alzano le braccia Capito Quindi ti si Ti si Accartocciano le spalle Non so che Che termine utilizzare Non è facile Comunque Stare dritti Questo ve lo posso assicurare È più difficile Di quel che sembra Bisognebbe stare Mi ha spiegato Il fisioterapista Non ha fatto fisioterapia Allora Spalle su Poi Gomiti dietro Giù Così Petto in fuori E scapole In depressione In teoria Così Bisognebbe stare È scomodo? Sì Perché devi farti muscoli Devi farti muscoli Alla schiena Per stare in questa situazione Però È la postura corretta Ahimè Troppo tardi bro Ma è infattibile Che ti devo dire? Io ho una protusione Del disco Nella cervicale Proprio perché Sono stato storto Che piano siamo? Quella è al 72 Mi sa Adesso vedo Oh Questa è una signora mano Questa è una signora mano Così si fa Oh C'è l'età Frammento Qual era pura? Aspetta Aspetta Fermi tutti Fammi vedere Che questo Very very good Non è che ci siano Non è che ci siano molti dati online Posso dirlo Allora Allora Red Yellow Purple Blue Green Indaco Orange Scusa Dov'è quella bianca? Eh Sto cercando Allora Ah What gem Rare cards Ah Quindi trovo carte rare In teoria adesso Che poi C'è scritto Rare cards In realtà Non so cosa significa Vabbè Lo scopriremo Ah Qua si scende Tutto dritto Poi a sinistra Poi a destra E si esce Qua tocca fare Tocca pensare Allora Si scende Ok Poi Posso mettere Una scala opposto baule Una scala qui E si esce No Non va bene Quindi Si scende Nemico nemico Scala E Altra scala Ok Due scale Dobbiamo mettere Intanto vediamo Cosa trovo qua Eeeh Ma siamo ricchi Quante scale abbiamo Possiamo mettere 200 adesso Molto molto bene Ragazzi Molto 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 bene Vediamo ste cazzo I carte rare Cosa significa Macrocosmo Non posso mandarla Al cimitero Perché c'è Macrocosmo E quindi Mamma mia Si venisse La cagarella Spruzzo Guarda Queste carte Le merda Ah niente Tanto non posso Mandarla al cimitero Quindi Perché per Per attivarlo Devo poterlo Mandare al cimitero Pensate Vabbè Ci abbiamo fatto Allo stesso Gigante Il tono Realmente Ha questo tipo Di carte rare Ok Ah mettiamo Una scala E tanto Primo dopo Non cambia nulla Due sono i bauli Mettiamo qua Intanto Ladruncolo Non so se è una carta Rara Questo Sarò onesto Il nome Il nome È Il nome È A fuoco Tremento Non voglio Attivarlo Perché magari Non mi serve Appunto Cioè perché Infliggermi 500 danni È gratis Tanto non l'avrei Killato Nemmeno Ciao Cookies Ciao Bello mio Ok Vabbè Con mani del genere Però sborro Nemico Di livello 8 Questi A breve Mi raggiungono Delle points Ridendo e scherzando Io ne ho 3003 adesso Poi mettiamo Una scala Qui Dopo sto tizio E Oh Ma sì Dai Sfidiamolo Perché potrò Metterla prima Però dico Lo voglio Questo baule Lo voglio C'è un po' Di batteria Vediamo se Verrò punito Per questa cosa Spero proprio Di no La mano Non è bellissima Sarò onesto Ah io setto Perché magari Ok Magari era il desk Quala Che fa danni In base A quante carte Ho in mano Cos'è Forse Tutta questa Viene mosso Al gioco Cazzo Potrei anche Spaccare tutto Sai che ti dico Taglie Così Dico Magari pesco Uno scemo Che può attaccare Vinco Così no Eh Facile Ok Piano 74 Signori Allora Qua si va a sinistra Destra Sinistra Destra Destra Sinistra Sinistra E si scende Oh Doggiamo un bel po' Di bauli Purtroppo Però Siamo a un pattern Abbastanza safe Cosa ho mandato Al cimitero Sto macaco Ogni volta Che un mostro Presente Nella parte Del campo Il tuo versetto Viene mosso Dal gioco Manda Nella tua parte Del campo Evocazione speciale Un segno Ah Ok Ha un mazzo Strano Questo Ho capito Tipo Macrocosmo Eccetera Eccetera Ok Nessun problema Finchia Bella Per il cilindrone Magicone Qua Perfetto Molto bene Sperare Le comunicazioni Yu-Gi-Oh Ho trovato Drago bianco Occhi blu Ma pensa te È una carta Che nessuno Ha Pattern è giusto Tic Mettiamo il cannone Onde soniche Settiamo lui E passiamo Oh C'è andata D'addio Vai Vai Lui lo mettiamo In difesa Con lui Attacchiamoci Andiamo a schiantare E si becca Dei danni E poi Men 2 Boom Molto facile Altro nemico Allora Fiamme finali Fiamme finali Fiamme finali Perché ci curiamo In modo tale Da poter usare Fuoco tremendo Senza perdere Life points Set 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 Passo Ok Eh no Bobby Non mi piaci Questi mille di danno Non li accetto Questi mille di danno Non li accetto Vuole attaccarmi diretto Il bastardo Ma pensa te Ok Piano 75 Allora Così 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 E si esce Ma in realtà Posso mettere una scala Sotto sto tizio E si scende ancora Quindi Molto molto bene Ci sono tante battaglie Da fare purtroppo In sto piano Questo è un vero peccato Vabbè Tunk Ok Nooo Così non andiamo Assolutamente D'accordo Però Ok Che culo Mamma mia Mamma mia Con cui lui Chi mi fa la lock Era brutta brutta La situazione Se non pescavo Una carta da barnali Vai Ci Ricopriamo subito Le points Che abbiamo perso 500 500 carte E Non gli ho ancora Fatto abbastanza Danni Cosa cazzo Mi ha dato New Doria Capirai Cioè capisco La tecnica In realtà ci stava Anche però Molto bene Baule rosso Oh la mega pila Siamo carichi Siamo carichi in tutti i sensi Nemico Nooo Minchia Ste meteore Schifo Non è un bel mazzo Il suo Posso dirlo Non mi sta per niente Piacendo Io ho pure Che abbia Cilindro magico Però allo stesso tempo Devo provare Attaccare Dai Cilindro magico È a uno Spero non abbia Altre carte Da barn Ma perché Non me l'ha attivata Prima Porca Tora 100 life points Perso E Con un deck Del genere Come vinco Abbiamo perso Ragazzi La sfida Dei 100 Piani Al piano 75 Cosa potevo fare Potevo non Attaccare Però cazzo L'ha tenuta coperta Un turno in più Potevo non attaccare Usare Sisfire dopo Ha burnato più forte Porca troia Cioè Le aveva tutte Quindi cosa succede Adesso Che non Si resetta Non so Come funzioni Sarò sincero Oh Dobbiamo far fine La giornata Vediamo che succede Si riparte Dal primo piano Porca Questo è brutto brutto Vediamo un attimo Penso anch'io Che tu debba fare Tutti di fila No Ah niente C'è Il test Sto giocando A Yugi Andre Ok Fermi tutti C'è il test Incanaliamo Le energie Ok Cyberlama Cobra Questo qua sotto Spolverino Attraverso Spacina Amazzone Non so cosa sia Acqua Esplosione DD Regecchi Non so cosa sia Questo Megamorph Distruttore Bubble Sul lato Susa Agnelli Dispersi Guardi un pupazzo Le vie del destino Questo qua è vento Terra Magia Terra La magia Non so cosa sia Questo Samuare Sasu Keino la terra Questo Scurita No era l'occhio Alieno Non so Che carte sono Ma cos'è Ma che cazzo Ah Cyberork Horus Minchia Questi sono difficili Sapete Vento di piume Dino Cyber Questo è terra Questo è terra Commerciante di carte Mago cibernetico Scudo giallo Drago Samuare Sasuke Questo immagino Multiplicatore Distruzione a catena Lui è drago Lui è corvo DD Macchina Samuare Sasuke No era quell'altro Vabbè sono un attimo Che carta è non la conosco Non la conosco Grande Shogun Shen Questo qua Piccola falena Rituale del drago bianco Vento Fuoco Cavaliero Jama Boh Difficilissimo sto minigioco Comunque E' veramente difficile sto minigioco Ok Ok Che si è impallato Ok Allora Cambiamo il deck Carica ricetta Andiamo fuori il dinosauro E andiamo a menere sti scemi Ok Tic Faccio di una fanciucca Mamma mia Che nome per un mazzo Emergenza Arriva Sparkman Eccolo lì Il giga No Ok Le Ok Pendente selvaggio Wow Molto importante fare sta cosa Così che possa attaccare un mostro in più Bravissimo Ma tanto giocare con Asselbury E' sempre così ragazzi E' sempre così Ok Mondo giurassico Poi facciamo così Gli rubiamo il fendente Selvaggio Picchiamo Sdong Main 2 Evocazione tributo E lui va al cimitero Quanto è forte brain control Troppo Too much Ok Vai un bel danno perforante E' un po' sicura Ma non abbastanza Uh la lady Eh vabbè Picchiare va picchiata C'è niente da fare Rota Vabbè Ah è certo che c'era Stratos E' Stratos settato Bello questo Stratos settato Fa ridere Fa ridere Ma fa anche riflettere Sulla I degli avversari Eh sì Che cazzo è stato ragazzi Avete sentito Ok Trunade Stunk Molto bene Non Quello c'ha purtroppo Chiuso la battle phase Ma noi abbiamo Oh Asselbere Ce l'abbiamo fatta È incredibile Il pacchetto Il pacchetto Si è ritorno shop Guarda ho usato un cheat Quali di settimane fa Per sbloccarli tutti Perché era Troppo palloso Sbloccarli 1039% Non va così male Grazie Energia Ok Eh Mr. Doctor Ma il fatto che purtroppo Allora io ho già portato Tag Force 1 Che è molto più bello Da platinare Qua purtroppo Per alcuni pacchetti Devi grandere tantissimo Sono obbligato a fare Quei miei giochi di merda E più Tanto tutta Come si dice Tutto il Il gameplay Basato sul fatto che Devi soltanto fare 20 per Per il tuo partner Quindi Cioè secondo me Era un po' noioso Ver grindare sempre Quello stesso mazzo Così mi sono detto Sblocco tutto Così faccio dei Mazzi un po' più variegati Capito Soprattutto quello barn Che stiamo usando Cioè adesso Ci siamo praticamente Cementificati Sul mazzo barn Per fare la sfida Dei 100 piani Vediamo un attimo Dopo scontato Che le gemme Cioè non è che Mi hanno resettato Tutto 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 Ciao Fievic Mi stavo chiedendo Se tu collezionassi O comunque conoscessi Il mondo di One Piece Card Game Ma c'è l'ascensore Grazie il passi Per il Re Sub E No non lo Cioè so che esiste Ma non lo conosco Quindi mi dispiace Brother Ah solo 5 piani Puoi scendere Ah no Perché non c'ho più soldi Ah cioè se tu paghi Eeeh Nel gioco è fattibile Un deck drago bianco O è troppo scarso Bella Luke Gara Ben tornato No è scarsissimo Il drago bianco Cioè ma è un 3000 Che non è fetto Due tributi Al massimo io Che col palladino Il drago bianco No è orribile Cioè fattibile È fattibile Per carità Zio Peppe Carta gialla Assolutamente sì Però voglio vedere Allora voglio vedere Se abbiamo ancora No non c'abbiamo più niente Proprio reset totale Ragazzi Proprio reset totale Che brutto No Le tutte le gemme Non ci posso credere Ragazzi Cioè per carità I primi piani Li possiamo lasciare Alla velocità della luce Però minchia Tutte le gemme Abbiamo perso No Stavo così Tanto infoiato Per le gemme Che triste Posso dire Che sono triste Sono triste I primi piani Li facciamo Alla velocità della luce Indubbiamente Però Ma poi questi C'hanno un mazzo Di merda Prima o poi Tocca rifarlo Andiamo avanti Finché non usciamo Facciamo in due secondi Sì però Sono figli di puttana Quelli che hanno Il mazzo barn Con i pochi Life points che ho Il mazzo barn È veramente Una tumorata Ma poi Non ho carte deboli C'è tutte quelle Che hanno fatto Più danni Sto con Oppressione reale 100 life points Dai che voglio uscire Fuori di qui Se fai un po' Usare l'ascensore È Georgius Però comunque Non avrei le gemme Mi perderei un sacco E roba Cioè alla fine Sti piani Sono facili Capito Quindi ti convene Anche per farmare Boom Visto abbiamo già Tratto un frammento Di gemma Cioè ti conviene Anche soltanto Per farmare Anche perché Combattere sti tizi Ti dà tanti punti Se non sbaglio Mi piacerebbe anche Andare avanti con la storia Il problema è che Andare avanti con la storia Non è scontato Perché Servono tanti tanti soldi Per tanti tanti panini Dal 2 o 3 cosa cambia? I personaggi I deck Le carte Quello Il 2 e il 3 Sono molto simili L'uno è l'unico Che si contraddistingue Per tutta la storia Che ha capito Infatti per me L'uno è insuperabile Uno può dire Ma nel 3 Ci stanno I gradatori bestia Carte fighissime Bene Però l'uno è fatto meglio Cioè se il 3 Fosse comunque fatto Come l'uno Al di là delle carte Sarebbe bello Ma Cioè l'uno C'ha tutta la storia Di far amicizia Con i personaggi Cioè non sei Della serie Tieni Questo è il tuo compagno Riempi gli cuori E fai gli eventini Cioè capito Quindi per quello Che è come l'uno È più bello Poi uno può piacere Cioè nel 3 Ci stanno anche I primi sincro Capito Quindi a uno Può piacere Il fatto che ci stiano I sincro Minchia 620 dp Per 3 secondi Perché Ok Ok Comunque E Io direi a questo punto Ok Facciamo un torneo Dobbiamo fare un po' di punti Così andiamo un po' avanti Con la storia ragazzi Che è da tantissimo Che non andiamo avanti Con la storia Purtroppo abbiamo Sprecato talmente Tanti soldi Di fare il deck barn Che alla fine Non abbiamo soldi Per altro Purtroppo Ok Sabato E andiamo a farci Sto torneo Cazzo E se perdo anche Stavolta da Jaden Ragazzi Mi butto dalla finestra Vi giuro Io se perdo Di nuovo Da Jaden Se a Cellberry Me la hinta di nuovo Io mi butto Dalla finestra Cioè è una roba Boh Tag force per PS2 No Soltanto il primo Inga È un porting Letteralmente come giocare A tag force Per la PSP Ma su PS2 È un semplice Porting Esplosione dello scudo Ponk Ok Picchiamo Nel gioco Nel gioco Nel gioco Certo Dove se no Ok Vai Ring Boom Molto bene Bonus nuovo punteggio massimo Duello più breve Un minuto Ah ok Hoggers Ciao Vanilla Ice Cream Buona parte Quello che è i testicoli Al posto delle guance Guardate che bello Sembra una sacca a scrotare La sua faccia Ok Aia Questo cos'è Lo stegosauro Sì Facciamo così Facciamo così Potom le strappole Ah sì Ah sì Eh sì Allora Allora male Ma sì dai Rubiamolo dai Vuoi che abbia mirror Ma porca miseria Olia tutte Vabbè Meglio Top Ovviamente Riesco a spaccargli Sto scemo Perfetto Picchiamo E picchiamo Passo Sperando non abbia Tempesta Ah no È vero Questo Quello col deck barn Fumile Voltex Va bene Va bene Comunque scartato Un po' di carte Minchia Top evocazione Davvero Olè Eccola lì Forza riflessa Olè La nostra Forza riflessa Io ho due Cyber draghi Bellissimi Cannone Abbiamo soltanto Mostra Inevocabile Adesso Finalmente Posso Giocarli Ah Qual è il problema Il problema è che Sto tizio qua C'ha Cannone De onde soniche E se noi Non peschiamo Qualcosa Per distruggerglielo È finito Oh ma Dio cristo Ragazzi Shrink pure Vabbè Io gli evo con Altro cyber drago Toh Asselbury Vinci Sono è finita Per noi Oh porca Pitana Asselbury Se la Se la usi a cazzo Io ti sparo Ti giuro Oh bravo Mamma mia Ho paura che la tirasse Su quell'altro C'è bravo Però sia nella merda Ecco Bravo ma siamo Nella merda Questo 2200 D'attacco Il fatto che Appena scopre Quel tizio Diventa ancora Più forte Non so se Riusciremo a vincere Sapete Però sia stupido Eh no Non è stupido Solo Asselbury È stupido Asselbury Fai qualcosa Abbiamo perso Abbiamo perso Insomma No usa tifone Usa Ma usa tifone Sull'equipaggiamento Ma ragazzi Ma come si fa Ma come si fa Ma giochi con un handicap In team In tutti i sensi Però È impossibile Vincere dei duelli Con questo tizio Ragazzi Ve lo giuro Ve lo giuro È impossibile Vincere duelli Con questo tizio qua È incredibilmente Difficile È incredibilmente Difficile Io cambio mazzo Riprendo il monarca È incredibilmente Difficile Vincere con due È incredibilmente Difficile Devo usare Cioè Mamma mia Ragazzi Sono anni Che non vinco Un duello Con Asselbury Che non vinco Un torneo Con Asselbury Da quanto fa schifo Sì ma Fia Se non mi dici Quante ne ho Nel mazzo Cyberdrago Ne ho Ah sì Voltex Lo voglio O si può essere For Non c'era Snustive Ok Allora vediamo un attimo Vediamo un attimo qua Profetta cristallo Direi Addio Direi via questo Via questo Due carte Ancora Da poter togliere Da dover Togliere Ma dai Mi van bene così Monarca Vari Via la poltiglia Tanto abbiamo un sacco Erobia A sto punto Via anche il cilindro Magico Vi dirò Ok Vai Magari 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 così ci va un po' meglio Ragazzi Che dite Allora Vai Schippiamo Finché non torniamo al torneo Che mi rompo i coglioni È il miglior modo Sarebbe In teoria Il miglior modo Il miglior modo Per Come dire Farmare punti Se non fosse Che c'ho Prende un tizio Che mi sta sabotando In team con me Quindi torniamo Domenica Ok Ok E facciamo sti punti Per favore Grazie Che poi il campionato Fa schifo Perché in realtà I deck Fanno cagare Cioè oggettivamente Questi qua Fan tutti schifo Il campionato Degli obelisk È molto più difficile È da meno punti Dave Grazie al prime Bello Ok Ok Benissimo Ale Va bene Va bene Ma è tempesta poter Sì sì L'abbiamo Molto bene Cosa mi ha tolto Ah ok Cilindro Non capivo Ok Il giudizio Non lo setto Che chissà Che cosa fa Quello scema Ragazzi Infelice Via la fanciulla Infelice Non ho visto le trappole Magari c'è una forza Rifless Probabile Qualcosa dice Che vabbè Tanto Vederle o non vederle Lui ci runner A down Preciso No ok C'ha quello Ok Va bene Allora Oppure forza riflessa Assolutamente sì Teniamo il ratto In difesa Eccolo No armatura Saporezzo Questa Va bene Uguale Main 2 Settiamo il nonno E passiamo Ah è vero Che non c'ho più Infatti c'ho What È vero Che non ho più Di Non ho Non ho più Dinosauri Con me Ah ma Ho due Voltex Non me ne ero Accorto Porca troia Che schifo Ok Com'è possibile Che siamo Sempre nella merda Ragazzi Sempre Nella merda Ma non usare Il nonno Che adesso Ci abbiamo Mamma mia Ragazzi Ora ring è Totalmente Inutile Ma Sono stupidi Pure loro Perché adesso L'attacco Si attiva L'effetto E perde Attacco Vabbè Ah in teoria Non attiva L'effetto Quindi La situazione È brutta Non andrò A mentirvi Vabbè Vabbè E allora Siamo All'effetto Il pomodoro Prendiamo Sanga E il problema Questa è Minchia Se adesso Lui tributa È finita Se adesso Lui evoca Quel tizio È finita Abbiamo Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Ragazzi È impossibile Vincere con Asselbury È impossibile Vincere con Asselbury Io vi giuro È impossibile Vincere con Asselbury Non ce la puoi fare Qualsiasi La tua faccia Non puoi vincere Con Asselbury È impossibile Vincere con Asselbury Ragazzi Io non ci credo Facciamo qualche sfida Da solo Almeno Se no mi deprimo Davvero È impossibile Vincere con Non sto scherzando Almeno faccio Le sfide da solo Così faremo Un po' di soldi Perché non ci abbiamo soldi Non riesco a vincere Un fottuto campionato Che sia uno È impossibile Vincere con Dave Grazie comunque Del prime Ce l'ho il deck Dinosauro Shardets Sono tre campionati Che ho perso Col deck Dinosauro L'ho cambiato E gioco Il monarca Adesso Poi per carità Ho pescato 17 trappole A turno 1 Che non è bello Però Ma che mod Per migliorare la I Ma è un gioco Di 60 anni fa Ma pure gli avversari Hanno una I Che fa schifo Questo è il concetto Però è che magari Gli avversari Non giocano Con 70 mostri Da doppio tributo Come fa Asselbury Asselbury C'ha veramente Dei mostri Che sono inguardabili Porca puttana Ma il fatto Che tra i personaggi Iniziali Non c'è di meglio Cioè cosa Prendevo Jaden Facevo il mazzo Eroe elementale Oh Non lo so ragazzi Fa schifo E basta Saluto al pacinotti Grande Pippo Cos'è Ha contratto La bipsa Vai Prego Vedete Cioè almeno vado così Faccio un po' di soldi I soldi Aspettate che cambia Un attimo una carta Ah c'è no Due Culmine Voltex Che Non mi fa impazzire Piuttosto mettiamo Un'altra esplosione Dello scudo Anzi A sto punto Mettiamo cilindro Cioè non è il problema Di farsi il deck Dinosauro come lui Il fatto è che È lui Il problema È lui Lui è il problema L'unico È solo problema Però pensate Cioè gli altri personaggi Iniziali sono Cyrus Con il deck Dei roid Jaden Quelli Elementali Chats Che c'ha I fottuti Ujama Poi c'è Quello Quelli Del destino C'è Sono uno Più Abominevole Dell'altro Ragazzi Ma come si fa I personaggi iniziali Fanno veramente Tanto tanto schifo Questa è l'unica verità Anche perché Anche perché non ci riesce A fare un deck Cioè è difficile Fare un deck Sinergico Magari con Jaden Perché sai Ero elementali Ero elementali Fai più fusioni No Ovviamente Ovviamente Quella che mi Seria per distruggerlo Mi ha fatto Scartare Ma penso Vabbè che posso Fare una cosa Ancora Migliore Adesso Wait Evoco Zaborg Rise Li ho metto In cia al mazzo Qui c'ha Poi la pescata Morta Vabbè scopri Che in mano Ha tutto Per rievocare Allora bestemmi Ma anche Avesse tutto Non può pagare Quindi va bene Lo stesso Ok Non c'è un cazzo Sto scemo Via Poi c'ha Alexis Che non so Che mazzo Abbia Qua Però C'ha quello Cyberangelo Ben 10 C'è pure Quello fa schifo Capito Hanno tutti dei mazzi Molto molto brutti Già tipo Tra i personaggi secondari C'è quello che ha il mazzo Vulcanico E il mazzo vulcanico Già Già un'altra roba Capito C'è il mazzo vulcanico Non è male Se mi attacca Mi fa un favore Tanto Ok perfetto Top deck Ok Ora attacco Mi rimbalzo in mano Gorz Guardate Così posso Riutilizzarlo Evviva Benissimo Mega monarca Quando sono usciti Non ne ho idea Ok 800 danni Niente niente male Sergio Settato Sergio Dalle mille mani Lui Ok Ok Comunque è vero Questo qua c'è un mazzo di merda A farmi Un sacco di punti Tunk Settiamo tutto Tanto ormai Non c'è un cazzo Questo Sto barbone Ok Chiudiamo Dai compriamo due panini Al nostro alleato Compriamogli due panini A questo Aspetta Facciamo Dai facciamo qualche piano Facciamo che Facciamo dei piani Poi quando usciamo Usciamo Ovviamente non con questo mazzo Che rosica raga Che ho perso il piano 75 Che rosica Che ho perso il piano 75 Che poi non ho ancora Il mazzo più ottimizzato Per carità Non ho il mazzo migliore Che puoi avere Cioè sono tante carte Da barn forti Che non ho Cioè tipo Just desert L'hai voluto tu In italiano Non ce l'ho Per farvi un esempio Nonostante abbia compiato Un casino Di bustine Di sadi Quelle lì del barn Ne ho comprate mille E non ne ho beccato uno Secret barrel Che fa 200 di danno Per ogni carta Che ha il nemico Sia in mano Che nel campo No una sola Oh ma vai a cagare Tanto non c'hai niente Non ti devi far niente Peggio quando succede Vabbè certo Per carità Però non ci sono arrivato Il 98esimo Quindi ci accontentiamo Abbiamo perso il 65 Pace Puoi comunque farmi Un bel po' di punti Facendo sta roba qua Anche un miliardo Di carte Tipo ragazza Maga nera Tu Estremamente useless C'è una trappa Ho ricevuto danno Ma pensa A te che sfiga Minchè che poi Adesso devi rifarti Cioè l'idea Di rifare tutte le gemme Mi fa tanto rosicare Ragazzi Sapete Cazzo c'era quella verde Che ci curava Era bellissima Poi per carità Le altre due Erano abbastanza inutili Non so cosa ho trovato Vabbè Sì Mica ho fatto un piano Top Allora Negozio Compriamo un po' di panini A sto scemo Salviamo 500 dp Ragazzi Costano i panini Però Ha il peperone Fantastico Guarda È meglio che ti piace È meglio che ti piace Cioè ma non ha riempito Un cazzo il cuore È l'uovo normale Questo È per PSP Dynamo Dynamo Questo Sprecca i soldi A questo Non gli piacciono I panini Ultimo Cioè io ho speso 2000 dp Per sta merda Ragazzi 2000 dp Per sta merda Mamma mia Io non so Cosa dire Proviamo a rifare Un torneo Tanto ormai C'è diventato Un meme Non mi ricordo Neanche quanto tempo Fai stato L'ultimo torneo Su pc Su pc Non c'è Conoscete L'emulatore Avete mai sentito Questa parola Emulatore Emulazione Non lo so Estorati un botto In che senso Estorati un bot Panini Qua quando lo compri Lo dai in automatico Al Allora Facciamo il giro inverso Dai Che perdere contro Eroid Mi fa un po' Alterare Cioè io ho scelto Assalbury Perché col deck Dinosauro C'è alla fine Evochi attacchi Capito C'è già tipo Eroa del destino E farlo Deck di O bestia cristallo Che c'ha tutte quelle cose Che ti intaso In zone magia mostro C'è il deck Dinosauro Devi letteralmente Evocare il trippone Picchiare Evocare il trippone Picchiare Basta Devi fare altro Ok Tu guarda sto scemo Che gioca a ste carte Qua Bestia cristallo Meno male Assalbury Almeno di deck È meglio Poi pensa a quest'altro Che gioca XYZ E E come si chiama Eliojama Cioè 100 life points E mo' inizia a fare robe Eccolo lì Eccolo lì Che inizia a fare le robe Eccolo Molto bene 3800 d'attacco Posso vincere adesso Grazie O vuoi Tirare altra roba No chiedo Ci sta per Otticappare Non so Ciao Daniele Ma si fa il giro inverso Adesso Duello Duello Comunque Giudizio solenne Forse deve toglierlo Perché Purtroppo il mio alleato Lo gioca a cazzo di cane Ci sono carte che Sarebbe meglio togliere Tipo anche Gorz Gorz è meglio se lo tolgo Perché tanto Se il Barry Setterà sempre Carte merdose Cioè non è che Se per chi Ho Gorz in mano Loro Non gioca le carte Capito Cos'è che abbiamo Il cimitero Ah lui Ma sai che ti dico Ma pushiamo un po' Sti danni Una ricetta solo con il terrojama Che senso solo con il terrojama Assetto tutto Passa Ok Benissimo Poteva vincere attaccando con l'altro vostro No Attaccato con il pomodoro mistico Molto bene Ah ok Doppia coppia di treo e una marea di magie Ah In quel senso lì Ho capito Vai sfidiamo sti due Ciao Mangia carote Le leggende 1 Voltanis 1 Ok Ecco qua 1 e 2 Tutti in mano Tanto adesso lo rievoca A posto Oh no I pugliesi È evocato questo Eh sì Loro ci danno un po' fastidio Io lo ruberei Grazie Allora quindi Questo c'ha Spacchiamo sti due Uh Ok Non male Non male Non male Per incontro il Mobius È una giocata Veramente Veramente forte Cos'è contro i pugliesi No no I pugliesi sono È la carta Non è nulla contro i pugliesi Ma io non penso di Farci book of moon Sul mio Mobius Cioè Ha fatto il suo Oddio Io glielo copro Guardate la giocata E adesso il mio alleato Nobiluomo Niente Non cazzavo Potesse una bella giocata Oh no I pugliesi armati Ci sono adesso Forza Attacco goblin Ragazzi Sono chiaramente Pugliesi Cioè Lo siede proprio Dalla faccia Tunk Ok Passiamo Ora che miseria Tizio è un 2008 D'attacco Ok Molto molto bene Va bene Fammi vedere Qua c'hai ricoperto Va Dandy lion Porca miseria Che carta forte Ragazzi Forza Attacco Sono i pugliesi Migrate a Milano Eh Giuseppe Purtroppo abbiamo perso Il piano 75 Quindi dobbiamo Iniziare da zero Poi lo faremo Ok Perfetto Allora abbiamo Raiza Che è tanta Tanta roba Rimettiamo Questo qua Dovrebbe essere Marshmallow Boh Non lo so Se era Marshmallow Forse era meglio Mettere Ah no Era questo Marshmallow Ok Tutto bene Ciò che finisce bene Vai Asselberry Chiudi Ti prego Non c'è un cazzo Questo Perfetto Molto bene Non abbiamo Eh no eh Eh no ragazzi Così non va bene Porca troia Che top deck Porca troia Che top deck Ragazzi Porca miseria Che top deck Eh vabbè Questo è GGWP Top deckata Potentissima Di tempesta Ancora più potente Me lo meritavo Già giocare con Asselberry È come giocare Con una Zavorra Al piede Quindi Me lo meritavo O se Riperdiamo Da Cyrus Io vi giuro Vi giuro Ragazzi Che Salto in aria Quello Dobbiamo battere Jaden Che è il vero Cattivo Soprattutto per L'intelligenza Artificiale Ragazzi Tributa Eccolo qua Set Boom Tempesta Va bene Ah c'è la chance Che abbia Forza riflessa Assolutamente sì Assolutamente sì In realtà Ci va bene Ci abbiamo Call of Dante Ed non altro in mano Anche avesse avuto Forza riflessa Andava molto Molto bene Facciamogli più danni Possibili Non lasciamo gli Respiro Questi sono altri 1700 danni Ok Questi sono Tanti danni Setto tutto Se tira Tempesta potente Gioco il vecchio Io gioco il vecchio Su quello Sì 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 Non lasciamo gli Respiro ragazzi Non si lascia Respirare niente Forza Non riusciamo a vincere Vero Minchia 100 life points Che palle Ragazzi Va bene Ha puertifonato Quella sbagliata Va bene Cos'ha qua coperto Il ratto La pantegana Molto bene Ci abbiamo fatto Ultima sfida Ragazzi Torniamo da Jaden Ormai È lui il boss Finale Non mi interessano Gli altri Eroe elementale E raggio Vulcanico Abbiamo già perso Due volte in finale Contro di loro Siamo tornati qui Se vinciamo questa Vinciamo il torneo Ci danno tantissimi soldi Tantissimi ragazzi Un sacco di cash Ci danno Il problema È l'ostacolo Che abbiamo davanti Voi direte Fieric Intendi i tuoi avversari No Intendo il mio compagno Il mio compagno È l'ostacolo Che abbiamo davanti Tempesta potente Benissimo Meno due Alla mano Ottimo start Ok Questo è un Raiza facile Non ci dispiace Per niente E questo è un Dashute Molto 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 buono Perché gli vediamo Tutta la mano Questo Vediamo un po' Ah Sti pentoloni Servono a qualcosa Distruttano andate Ci mettere Battere Poi mettere Il mostro Vulcanico All deck In cima All deck C'è nemmeno in mano Perfetto Forza riflessa Ok Già sappiamo Che Assalberry Ci finirà in faccia Io toglierei Trantumatore Vulcanico Ok Assalberry Tritto in faccia Forza riflessa Ovvio Perché è questo che intendo Quando c'hai Non Non c'è Ina nemmeno Non può c'è inarla Sì Perché non ha c'è inato ring Non ha attivato ring of destruction Quindi ci ha Ci ha fatto perdere Tutte le carte Che avevamo In parole Molto Molto povere Io setto queste Prego Che la usi Con Qualche modo Ok Va bene Non ho visto Chi si è messo in mano Va bene C'ha un cart Così inutili Che è incredibile L'idea di perdere Contro di loro Assalberry Ce l'ha messa tutta Per farci andare Negativo Con le carte Ma ce l'abbiamo Fa Abbiamo vinto Un torneo Ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Che difficoltà Che difficoltà Oh 10k Ci ha dato Un sacco di soldi Finalmente Sì Porca puttana Non vincevo un torneo Dal 92 Non ero anche nato Chi l'avrebbe mai detto Ok Grazie Gesù Ti vogliamo bene Facciamo un eventino Con Assalberry Dai Ci abbiamo così tanti soldi Che ti li prendi I panini Assalberry Te li prendo Mangia un bel panino Al fornaggio Dai Che è buono Ti fa bene Ti fa bene Il panino al formaggio Oh mio No ho sbagliato C'era quello L'uovo d'oro Però ormai Ed è Assalberry C'è un millimetro di cuore Che devo darti Da mangiare Vai Qua c'è una torta Buona la torta Ma chi cazzo Non piacciono le torte Oddio me non piacciono le torte No la carota Non gli piace sicuro La carota Non gli piace sicuro Figurati Questo è soltanto Carnazza La Oh vabbè Ascolta Tiniti l'ananas Ah no Gli piace l'ananas Ok La frutta gli piace Ma quanto ci vuole Per riempire un cuore Dio Cristo Ma sto sprecando Tutti i soldi Che ho Per riempire così Così gli manca di cuore Quanti panini Devo dargli Facciamo un duello In coppia E speriamo Basti Che fatica Ragazzi Cioè immaginate Che per finire Sto gioco Dovevo fare Altri 4 Sono 8 cuori In totale Asselbury Cioè Prendete quello Che devo fare Io è continuare A duellare Perrendemente Per questo Che non mi piace Quanto l'uno Neanche lontanamente Però Ok No Andre No tazzi In realtà No Anzi Assolutamente No Perché Chi parteva Primo Non aveva Nessun Come si dice Nessun Svantaggio Perché pescavi Anche la sesta Quindi non avevi Neanche la carta In meno Ma avevi Alcuno Svantaggio Facciamo così Cioè già Pensate che Adesso Si starta Primi Nonostante Il primo Parta con 5 carte Anziché 6 Ai tempi Si partiva Con 6 Carte Ma usa Strappa Possesso Hai vinto Che ti servono Le carte Se non le giochi A Selberga Che ti servono C'aveva Strappa Possesso Le rubava Attaccava E vinceva Cioè Neanche Dici Devi programmare La In un certo Modo Cioè Letteralmente Guarda Si parte Secondo Un gioco E infatti Per farti capire Niente Non gioca Le carte Chiamo il posseduto Evuchi Un tizio Attacchi No Non lo fa Non lo fa Fosse l'ultima cosa Non lo fa Qua cosa mi tocca Ah no Basta che attacco Non è il solo Sto piangendo A vedere questo gioco Io sto piangendo A giocarlo Senza te Per il mio alleato Ok Abbiamo riempito Il cuore Signore Signori È ufficiale Il cuore È pieno La mia pazienza No Però Ok Allora Vediamo un po' Leventino Con Asselbury Mi chiedono Cosa Non riesco Proprio a capire Cosa Sì Cazzo Mamma mia Ragazzi Mamma mia È finita Oh Le Fammi vedere Qua Ah Questo Le carte Che non posso Togliere Dagli Monarch Ma lui Vuole tenere Tre mostri Doppio Tributo Come posso Dagli Monarch Ma poi Le peggiori C'è istinto Di caccia Non serve A niente Fa cacare Mamma mia Ragazzi Allora Pensiamo Un attimo A come Cambiare Lui Via Subito Morfinger Vaffanculo Questi Via Che non servono Assolutamente A niente Via Questa Perché tanto Non la usa Trunade Non mi sento Via gli stegosauri Perché Basta Grazie Non puoi Vivere Con dei 2000 Di difesa Va bene Tutto Ma anche No TD roll Il resto Non fa neanche Schifo Cioè Questi Boh Giusto Per averli A turno Uno Però Possiamo Finalmente Dargli Delle carte Decenti Questa È la cosa Bella Tieni Un po' Di Sakura Poi Poi Cosa Gli Diamo Gli Diamo Tempesta Già Ce l'ha Sepoltura Già Ce l'ha Non ha forza Riflesso Sto scemo Torrenziale Marshmallow Gli diamo Ma sì Dai Beccati Marshmallow Ring Ma ring Tanto Non la usa Quindi Ma confisca Pure Oddio Che confisca Le fa vedere Anche a me Le carte Il fatto Che L'ho Fatta Talmente Veloce Che Confisca Che poi Scusa Aspettate Fermi Tutti Vediamo Che target Perché Lui gioca Il ratto Gigante Il tre Per di ratto Ma se Diamo Tipo Forza Esiliata Non lo so Allora Tributo Terra Ricerca No Ricerca Ho sbagliato Ho sbagliato Ricerca Ordina Per Attacco Andiamo Da quelli Che hanno 1.5 O meno Che sono Questi Se c'è Qualcosa Decente Con 1.5 O meno No Purtroppo No Non ho Forza Esiliata Se no Forza Esiliata Era buono No Non abbiamo Nessuna Carta Terra Decente Lily No Lily Non ce l'abbiamo Impossibile Sì ce l'abbiamo Lily Come no Pinchia Tieni Questo target Migliore di ratto Che esista Che rimuoviamo A scommettere Tornadi Sono un po' Troppi La butto lì Vai Ha un deck Decente Ragazzi Ha un deck Decente Non sai che Metto tutti i giorni Ha un deck Decente Non forte Ma purtroppo C'ha tre mostri Doppio tributo Che non posso togliere Delle trappole Totalmente inutili La terreno Che è brutta Eventino Ah è buona parte Che sta combinando Adesso Mi hai trovato Niente niente Non combino Come hai trovato Cos'è nascondino Come se cresimo Che ci fa in questo dormitorio Allora Non sono venuto qui Distruggere il dormitorio Rosso lo giuro Cos'è Mette le bombe Ci mette le bombe Nel dormitorio Ce l'ha detto lei stessa No abbastanza Proprio Affrontatemi in un duello Se in cui distruggerò Questo dormitorio Ma perché Ma perché deve fare Esplodere un dormitorio Ma chiamate la polizia Oddio santo Il pelato C'è il pelato I pelati Ok Sono ospiti speciali E stati invitati A partecipare a duellità Tag a supervivenza Ok Sergio Tuo parte Te ando a Selberry Ma pensa a te Ok Duelliamo ragazzi Ora Selberry C'ha il deck forte Nulla può più Capitarci C'ha Selberry Giocava senza forza Riflesse Tributo torrenziale Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Ragazzi Fratelli Tyrles E Raptor Vediamo un po' C'è Buono Che ha scrattato Ring Ma non le ho viste Non vedo le carte Minchia Io ho dato quella carta Così dico Così no Deve Ti guarda la mano Ho due secondi Vedo Niente Vabbè Questi hanno il deck Guardiano del cancello Cioè Fa imbarazzo Soltanto a pensarlo Che mostro è quello Non aveva mostri prima L'ha pescato Cioè a parte Ah no perché è l'altro Questo È l'altro Ok Cosa farà De Recruiter Ok Ah grazie Cioè mi hai regalato Un mostro Il microfono Non c'è Perché è andato A tuttane Ok Oddio Cristo Sta carta Vabbè Tanto c'ho Mobius In mano Oh lui C'ha Lily In mano Ma non la gioca Con Lily Potrebbe attaccare E fare gli 3400 Eretti Ma non la gioca Io l'ho data Ma perché Questa è una delle sue Carte preferite Mi sa Mi sa che Si basa su questo Vabbè Sette dico Chiudiamo sta merda Ok Ierneax Ciao bello mio Grazie mille Del sub Ah per il gilturbo Sì sì so Qual è Quello che vale Doppio tributo Per i mostri Grazie mille Ierneax Grazie tante Del tuo sub Ok Spaziale Sergio Che duello fantastico Non può essere Come abbiamo potuto perdere Come avete Come avete potuto perdere Siete dei citrulli Citrulli Wow Sergio Bel duello Ok Cancello È scappato Lo rivediamo presto Vabbè Ma questo è un evento Del cazzo Allora Da quel che ho capito Mi pare aver capito Funziona così I primi quattro cuori Sono eventi globali Cioè che si ripetono Per tutti i personaggi Dal quinto All'ottavo Invece sono Dedicati al Personaggio Abbiamo scelto Esatto Mi signo Dovrebbe funzionare Così Dovrebbe funzionare Così Vai Big salvataggio Dati Fine della giornata Ok Facciamo qualche altro Anzi Facciamo un po' Di unboxing Che poi potremmo fare Effettivamente Un mazzo diverso Però È che per i duelli tag Molte carte Fanno un po' cacare Sapete Però Oh sapete Vi dico Io voglio trovare Spiacustode Di tombe Non mi interessa Sgancia La spiacustode Di tombe È il flip Più forte Che esiste Oh Oh Chico Tanta roba Come carta Vabbè che i mostri Cosa sono tutti Banditi qua C'è Spiacustode Di tombe Qua dentro Dai Per forza Io Controllo Perché Non ho spacchettati Tanti Ah fammi dire Com'è che si chiama Sto mazzo Tappeto magico C'è per forza Magic carpet Sì sì È super rare Neanche ultra Però non l'abbiamo trovato Che fa Appena Appena La vedi Capirai È tosta Considera È la carta Penso Considera Una delle carte Più forti In got Nel got format Che esista Ma dove sarebbe Fare il mazzo Custode di tombe Ecco Necropalle Ecco lì Le necropalle Oh ma non si trova Ma porca puttana Potremmo farci Un mazzo Custode di tombe Per il meme Oh le necropalle Le abbiamo Però senza spia Non si può giocare Oh tutte e tre Molto bene Spia Custode di tombe Oscurità 1200 2000 E il suo effetto E scopri E evoca un mostro Custode di tombe Dal deck Compreso lui stesso È un 1200 2000 Che appena si scopre E evoca un altro Ehm Un altro Custode di tombe Cioè un'altra spia Quindi fai un muro Capito quanto è forte È molto forte Spia Oh tutte e tre Abbiamo trovato Che c***o È fondresso In deck monarca Sì sì Anche Certo Voglio però A fare un deck Custode di tombe Ragazzi Allora Tanto qua L'abbiamo già salvato Rimuovi tutte le carte Tombe Si portava con Apprendista Stregone E Fenice E Fenice Sacra Aspetta In che senso La pre No L'apprentice Non può evocare Non può Bessettare la spia Quello no Allora Allora Ma il chief Il chief Grave Grave keepers chief Non ce l'ho Non l'ho trovato No Non sempre Necropalle Ok Facciamo così Poi Però Hangan. Breaker non ce l'abbiamo, vero? Ah, ma il Breaker è bandito in sto gioco. Ok, Breaker è bandito. Allora, 14 mostri, direi mettere qualche... Non c'abbiamo neanche il trippone custodi di tombe, il 1.9 che si flippa. Strano comunque che non ci siano così pochi custodi di tombe. Com'è? Guardia custodi di tombe si chiama. No. Non abbiamo... Ah sì, qua. Perché non l'ho trovato? Forse non l'ho visto prima. Sì, dai. Uno. Infatti pareva strano che non avessimo questo. Gorze non ci sta bene in un mazzo del genere, secondo me. Ora ci mettiamo le staple. Allora, mostri 15. Aspetta, mettiamo qualche monarca. Ok. Mobius è molto utile. Raiza. E... Ok. Cyber Drago lo mettiamo, ma in realtà abbiamo... Cioè, abbiamo comunque un mazzo che fa tanta presenza di terreno. Quindi mettere Cyber Drago mi sembra che rimanga morto in mano. Io gioco i recruiter. Asselbury gioca i recruiter. Quindi sti cazzi, detta, sinceramente. L'unica cosa è che giochiamo due terreno diverse. Vabbè, non penso che spacchi i miei terreno per giocare la sua. Jinzo andrebbe giocato. Perché, dici? In teoria andrebbe giocato. Infatti è che non ce l'ho Jinzo. Purtroppo. Ah, mettiamo un po' di staple adesso. Tanto ce le siamo salvate. Allora, ring. Sakurezu. Cilindro. Questa. Questa. Il nonno ce lo mettiamo, ma mettiamo il nonno, va bene. Marshmallow perché no. No, questa no. Fermi tutti, questo no. Neanche Call of the Hunted. Perché giochiamo Necrovalle. Ok, cosa togliamo qua? Fammi un po' vedere. Allora, 13 Magi e 12 trappole. Secondo me è il rito dello spirito un po' me. Cioè, può evocare soltanto un custode di tombe. Ne metto uno per il meme. E poi mi sa che toglierò giudizio solenne, dai. Sennò poi a Selberry lo gioca a cazzo di cane. Io toglierei questi. Non ne servono. Cioè, ne basta uno e uno, sinceramente. Tanto si possono reclutare di spie, si possono reclutare di pomodoro. Quindi metterli tutti non ha alcun senso. 40 carte. Io vi dico, andiamo così. Vabbè, le vecchie liste. Cosa stai guardando? Le liste GOT del 2005. Cioè, Jinzo mettevano anche su per il culo. Adesso Jinzo, non dico non sia più giocato, ma è molto poco giocato Jinzo adesso. Nel GOT di adesso. Nel GOT Form. Ok. Ah, c'ho Call of the Hunted. Aspetta che lo tolgo. Che poi in realtà, cioè, Necro Valley non sarà sempre sul terreno. Però sì, diciamo che ha stoppito. Questa l'ho già messa. Preno, l'ho già messa. Oh, rimettiamo il nonno, dai. Ok. Voglio provare a fare una sfida da solo. Questo che deck ha? Super Forza 1. No, questo non mi sta sul... No, dai, facciamo Super Forza 1, vai. Vediamo un po' come va. Vediamo come va il deck Grave Keepers. Che poi oltretutto la cosa buona è che in questo gioco Nobiliuomo dello Scambio è limitato a 1 e quindi Spia... Ok, una necropalle. Che forte Spia, ragazzi. Che forte, mamma mia. Ecco, però c'è lui, giustamente. Però c'è lui! Esplosione dello Scudo. Tone, abbiamo beccato un'altra. Facile. Molto bene. Niente, top deckata... Basta! Quanti ne hai? Ma non è possibile! Vabbè, ragazzi, ma che sfido. Che palle, raga. Ah no, attaccami pure. Oh, ti evoco quello che fa danno perforante, così impari. Ecco qua. Tempeste è andata, settiamo tutto. Vedete? Il motivo per cui molti mostri non vanno abusati è perché tanto li puoi richiamare in altri modi. Tipo, pensate lui. Lui lo possiamo prendere. Ti sangano quando va al cimitero. Abbiamo due pomodori che quando vengono tutti in battaglia possiamo evocare in campo. E tre spie che flippandole lo evochiamo. Quindi che senso ammetterne più di una copia? C'è il suo effetto è danno perforante. Quando serve, avete tanti modi per metterlo in campo, capito? Anche se è una carta su 40, non dovete considerarla come una carta su 40. Dovete considerare tutti i modi che avete per portarli in campo. Imparate, bambini, imparate. E per adesso? Ah, tolto che spia custodia di tomba è saltata per aria due volte di fila. Ok. Mamma mia, che stupido questo. Stunk! Ta 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 ta! Allora, lui sicuramente non ha altro. Ah sì, dai, glielo solenno tanto, non c'è un cazzo. A posto! Il lanciere custode di tomba. Minchia, come ha penetrato il lanciere. Come ha penetrato il lanciere. Sfidiamo Jesse stavolta, dai. Il primo sarà un duello in coppia con Asselbury. Perché abbiamo un po' di carte che vanno in contrasto. Che bello sarebbe poter cambiargli tutto il mazzo. Tirando Asselbury quello che gioca, le fate. Lui possiamo cambiargli quasi tutto il mazzo, effettivamente. Ok, micropalle. Settaggio della spia. Sakuretsu. E passiamo. Dai, non ci tiro a sacurezzo, però un tizio mi fa 600 di danno, vi dirò. E ora vi faccio vedere quanto è forte. Chi ci prendiamo? Un'altra spia? No. Prendo lanciere. Io penso che quello settato sia la tartaruga, però sti cazzi. Anche fosse la tartaruga. Vorrei dire che stallerà per un po'. Settiamo questo e passiamo. Va bene. Vai, altra 600 di danno. Oh no, come farò adesso? Aia! A te ti attacchi al cazzo. Ok. Guardi e custodi di tombe. Li facciamo tornare in mano. Quale scemo gli facciamo tornare in mano? Questo. A posto. Ho vinto, sono abbastanza danni. 2000, 3007, 4002, 5002, più 2004. Precisi. Precisi. Ecco qua. Sparisci. Finchia, ragazzi. Quasi uticappato. Con il deck Grave Keepers. Let's go. Bello, bello. Mi sta piacendo per adesso. Perché sapete qual è il fatto? Che non è male, tutto sommato. Non è male soprattutto per il tizio. Qua non ci sta gente da duellare. Non è male per il tizio che... Andiamo a lezione, va bene. Per il tizio che scarpi ti aggiunge necrovalle. Che non è male. L'ho già detto che non è male. Perfetto. Allora, modifica deck. Vai, tanto questo qua l'abbiamo appena salvato. Riprendiamoci il barn e facciamoci due piani, così. Che purtroppo qua, ragazzi... Ripartire a zero è dura. Siamo al quarto piano. Vabbè, farmiamo. L'ideale sarebbe fare più sfide possibili all'inizio. Perché comunque la possibilità di darti le gemme, questi ce l'hanno. Capito? Beh, cioè, ma... Iniziamo già così. Iniziamo già così. Iniziamo già così. Frammenti... Oh, già tre frammenti ci abbiamo. Cavoli, dobbiamo... Ok. Dobbiamo sfidare più nemici possibili ai livelli bassi. Perché troviamo... Troviamo le gemme, capito? Minchia parsha. Ok. Che poi c'è stato un periodo in cui i custodi di tombe sono stati meta, ma... Grazie a tanti supporti che sono usciti. Appena usciti facciano schifo, ragazzi, cioè... C'erano ammazzi più che altro, appena usciti... C'erano... Cioè, tutto si basava sulla carta... Sulla terreno... E... E basta. E nobiluomo ti ammazzava la spia... Se appena tiravano il nobiluomo sulla spia... Avevi perso. Perché... Cioè, era letteralmente il mostro più forte che avevi. Tu, 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 tu. Truro. Ok. Ma ci siamo curati i danni che ci avevano fatti. Si scende. Si scende, Bobby. Scendiamo... E sfidiamo un po' di... Di coglioni. Tuck. Prossimo nemico. Non vedo l'ora che sia stasera per mangiare il mio pollo al curry. Mi mangio il pollo al curry stasera? Potrei mangiare il pollo al curry stasera. Se non avete visto il mio famoso pollo al curry, è uscito anche un video su YouTube. Ascrivete Fieric Pollo. Trovate. La ricetta del pollo al curry. È veramente leggendaria. L'ho fatta assaggiare un mio amico che è... Veramente una buona forchetta. Una forchetta di 125 chili. Nonché... Ex cuoco, quindi... Ha apprezzato. Questi bastardi. Risucchio magico. Siamo già usciti. Vabbè. Ci sta. Ah, fammi vedere una cosa. Sì, adesso ho... Modifica deck partner. Io posso dargli... Aspetta. Io posso... Capito? E infatti ho tre spie. Raga, è tempo di... Trasformare a Cellberry... Ehm... 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 Custode di tombe. Siete pronti? Ok, a Cellberry. Allora, via. Marshmallow è troppo forte per non essere giocata, Imo. Ecco qua. O confisca tanto... Confisca tanto... Cioè... Lui scarta caso. Non gli vedo manco... Non vedo manco cosa scarta. Quindi... Sai cosa? Ciao. Tiranno custode di tiranno. Io non posso immaginare come giocherà. Cioè, giocherà a cazzo i cani in maniera indescrivibile. Però... Va bene così. Va bene così. Diamo un assalitore. Assalitore. Gli diamo più tripponi, così li setta, capito? Cioè, dandogli tripponi, lui li setta coperti in difesa. E non... E non fa casini se li setta. Mette per te. Va benissimo. Gli diamo una di queste. Poi. Nelle a zero risultati filtra. Gli diamo il pomodoro. Eccoli qua. Ah, ma ho tutto in tre per. Tutte le mie carte sono in tre per quando devo darle a lui. What? Infatti, io non ho così tante cose. Vabbè, easy, ragazzi, allora. Possiamo fare cheating con il deck del partner. Gli diamo Sanghan. Allora, io direi per sicurezza diamo un Mobius. Bel Mobius, glielo diamo. Poi diamo un po' di magie. Fammi un po' vedere. Sì, sì, sì. E vorrei dargli le magie. Allora. Carte con l'etichetta. Ok. Nobiluomo ce l'ha? Non ha nobiluomo? Vale. Questa, questa. Abbiamo una di queste che può sempre servire. Un brain control per sicurezza? Ma sì, dai. Brain control, vai. Non sono fusioni forti. Non particolarmente. Ok. Chat, è tempo di fare un bel torneo. Che ne dite? Megliorezza di Mobius. Allora, ti direi di sì, però tu devi pensare a due cose. Punto primo. Lo giocherà a cazzo. C'è caso di rimettere in cena al mazzo un mostro che poi appena ripesca. Lo rievoca e gli fa casine. Punto secondo. Ci sono tantissimi tizi che giocano Floodgate, che giocano Carte del Cazzo e quindi Mobius è straforte. Contro il deck che gioca sta gente. Mazzi Barn, Stallini, tutte queste cose qua. Quindi preferisco Mobius, proprio devo scegliere. Vai. Torniamo al campionato. Poi c'è Jesse Anderson che gioca i bestie cristallo e di conseguenza vanno tutte entro le magie. trappola. Eh giusto, così intendi per fusioni forti. Ok. Ah, Cybersaurus è una delle sue carte preferite. Vabbè, dai, un 1.9 ci sta. Ecco, guardate. Conto alla rovescia c'ha questo. Quindi c'avrà degli stalli... Nooo, c'ho il mazzo sbagliato, non ci credo. Questo non è bello. Ho dimenticato di cambiare il mazzo, raga. Ce la possiamo fare comunque. È ok, ce la possiamo fare comunque. Ce la possiamo fare. Ah, minchia, è vero. Ah, che schifo. Ci abbiamo canone onde soniche, possiamo vincere con questo. Easy. Minchia, si vinciano con sto mazzo. Non è che mi ha dato il posto di tomba a quello. Flippa il mostro, ti prego. Flippalo prima. Ok. No. Proprio... Ma non l'ha neanche scoperto per fargli danni. Proprio ha buttato tutto a... Cioè, c'ha... Ma non l'ha neanche scoperto, ma... Ma almeno scoprilo prima di tributarlo. A me fai impazzire, Russell Barry. Io non ce la posso fare, ragazzi. Vabbè che... Cioè, prossimo turno abbiamo vinto. Con il cannone. Ok. Molto bene. Ma mai che c'ho canone onde soniche, ragazzi. Amma mia. Mamma mia, meno male che abbiamo il canone onde soniche. Fammi cambiare subito mazzo. Che tragedia giocare con Russell Barry. Allora, carica ricetta. Grave keepers, vai. Fusioni che si riescono a giocare che sono in meta. A Zugosha c'è il problema... C'è un problema. Non... Cioè, senza... Senza metamorfosi non esistono fusioni in meta. È questo il concetto. Perché il concetto della fusion, ovvero di usare polimerizzazione, fa schifo. È questa la verità. Gli unici in meta sono quelli evocabili di Cyberstein tipo Cyber Drago Finale e Cyber Drago Gemello, ecco. Ma perché ne evochini Cyberstein? Non peraltro. Ok, ok. Ah, così andiamo d'accordo. Ok. Ok. Olè. Necropalle. Eccolo lì, niente. No, metamorfosi non c'è qua. Vabbè. Pace. Oh, che carta è forte che gli ho dato. Finalmente è decente. Poteva evocare Mobius, sto scemo, eh. Però è chiedere troppo, a quanto pare. Vabbè, adesso sacrifica pomodoro. Vai, vai. Bam, bravo. Spade, sp... Vabbè, dai. No, vabbè, il cazzo, avremmo vinto. Vabbè. Io mi sparo, ragazzi. Io faccio Arachiri tra poco. Ora setto tutto soltanto per fargli tirare la tempesta potente all'avversario. Cioè, non so cosa dire. Vai. Vediamo se ti ha la tempesta potente. Voglio buttare dalla finestra, vi giuro. Riusciamo ad attaccare, per favore. Riusciamo ad attaccare. Oddio, potevo lasciarlo vivo, così. Shadow Requiem non è meta. Cioè, fa cagare. Poi, oh. Cioè, nel senso, una roba for fun. Non è meta fare FGD. Perché devi giocare un sacco di draghi inutili. I draghi non sono meta. I draghi fanno oggettivamente cagare. Giocare tipo Drago Avito perché a 1.9 non è meta. Però, eh... Sono deck fattibili, indubbiamente. Ciao, Gabrollo. Scopri spia! Non si può, non si può. Cosa ti ho dato a fare, spia custodia di tomba, se non la giochi? Ok. Vediamo se c'è. Allora, Mendoou, teniamo gli smashing ground. No! Non gli tiro niente. Ah, gli tiro questa. Tutti in attacco, così si arriva. Mirror Force, piangiamo. Che fatica. Ah, ma su questo gioco ci sta, Shadow. Ci sta, ci sta. Sicuramente non ci sono fusioni in meta, se non quelle lì, ma perché non usi polimerizzazione. Ma il bello di questi giochi è che puoi fare anche dei mazzi. Cioè, tipo, io ho fatto custodia di tombe. Cioè, non è che mi metto lì con il DDT, il Diamond Dude Turbo, il mazzo più meta che c'era, e faccio i miei mazzi. Ok. Ah, ottimo questo. Comunque che bello che gli ho dato i custodi di tombe, ragazzi. Sono contento. Sono molto contento. Ok. Oh, è che sta succedendo? Aia! Guarda. Attacca pure. Ok. Mettiamo il lancere con un bel 2000 d'attacco. Che adesso fa danno perforante perché è quello in difesa. Molto bene. Tunk. Tunk. Fortissimo in questo mazzo. Cioè, il fatto che abbiamo un sinergia nei nostri deck soprattutto è forte. Il mazzo in sé non è che sia miracolo, ecco. Perfetto. Cioè, il mazzo è ok, però c'è sinergia. Giochiamo sei spie custodi di tombe in totale. Che è che hai fatto? Custodi di tombe. Ecco, vediamo sti scemi con il deck roid. Vediamo adesso. Vediamo adesso. Porca, ora sì che sono forte. Ora siamo fortissimi questi mazzi. Purtroppo tirando a Selberry c'ha ancora delle carte che non posso togliergli che fanno cagare tipo istinto di caccia che è totalmente inutile soprattutto adesso che io ho tolto i dinosauri. Però guarda qua triponi custodi di tombe in mano. Che forte. Che forte. Necropalle. Tiriamo un bel 1500 diretto e poi in main 2 settiamo la spia. Settiamo questo. e passiamo il turno. Fammi vedere cosa c'hai. Manciullo infinito e Angelo Splendente. Porca che palle. Questa termina la battle phase di Angelo Splendente. Ok. Lui non flippa spia. Questa è una cosa forse perché nella sua testa avendo più difesa che attacco dice questo mostra che deve stare indifeso. Non lo so. Io me lo immagino così. pochiamo il lancere. Allora eeeh attenzia forza riflessa. Cioè poi guardate che statistiche hanno sti mostri perché con Necrovale 500 attacco e difese tantissimo. c'è la spia 1700-2005. No non c'è il creatore bestia qua. È nel 3. È nel 3 il creatore bestia. Ok. Direi che abbiamo alquanto vinto. Bravo tiranno. Oh quanto mi piaci con sto mazzo. Bravo. Ok non flippi la spia costa dei tombe ma quanto mi piace lo stesso. Vai Jayden fammi vedere che cazzo c'hai. Eh The God però non c'è. Vai. Ci accontentiamo dei gravekeepers che è comunque tanta tanta roba. Il mondo giurassico la Necro sta ma immaginate uno che si presenta a giocare oh ha cambiato mazzo Jayden c'è i neospaziali Jayden C'è immaginate uno che si presenta al vostro local mondo giurassico lanciere custodio di tombe fai ridere solo a pensarci facciamo che mettiamo una vera magia terreno va che ne dice che palle è un gitto minaccioso ok va bene eh non ci posso fare niente purtroppo rip rip che palla acceleratore fiammata dà proprio fastidio come carta eh insomma allora abbiamo tifone che è bene fammi valutare beh questo penso glielo spacco così e poi faccio così gli setto anche per incontro perché può servirgli ok estratto tiriamo trappo la botola spada rivelatrice va bene ci abbiamo guadagnato molto devo dire minchia torrenziale per un pomodoro va bene capisco allora se faccio brain control sono 3900 danni no ma non importa tanto questo qua c'ha 2000 d'attacco facciamo anche glielo spacco e basta coglioni ah niente settiamo anche i bolt exo così userà qualcosa tiranno ok no no prendiamo i danni senza problema ok e ora si picchia ora si picchia ciao legend minchia c'ha pochissimi life points ok allora penso che abbiamo vinto si 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 la mia sentenza è abbiamo vinto la mia sentenza è la vittoria let's go uh abbiamo rischiato comunque 1140 siamo saliti di livello strappa partite porca te se le strappa le partite guardate il cash guardate il cash ah minchia 20.000 dp ragazzi 20.000 bombes 20.000 bombes e questi sono tanti sono tanti 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 siamo nel negozio dai ti prendo un po' di panini a selberry te li sei meritati te li sei meritati i panini c'è l'uovo let's go baby tada boom abbiamo riempito tutto il cuore ragazzi porca miseria che forti che siamo che forti che siamo che forti vai pacco di sadie tirami dammi le carte barn belle potenti dammi le carte barn belle potenti dammi il secret barrel oh questa non ce l'ho ancora questo non è male questa non è male minchia una sola ho comprato un biliardo di boost che poi costano un botto cielo furtivo ok oh altre due secret barrel altre due ruota incubo un fuoco treme bello 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 molto 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 bene 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 il pacco di d'or ti pure compriamo vediamo se riusciamo a ottenere un poison of the old men due ne abbiamo tre siamo a posto siamo a posto ggvp ggvp ragazzi l'agile momongalo ci abbiamo anche eh questo è gg ragazzi ok allora carica ricetta carichiamo il mazzo barn ci mettiamo allora abbiamo intruglio dell'anziano qua arma segreta qua ma è vero non abbiamo trovato neanche un desk quale ma è incredibile con questa cosa cioè ma quanto ho comprato quanto ho shoppato abbiamo un altro uccello furtivo che non è il massimo però ok abbiamo altro ragazzi fatemi pensare non mi pare abbiamo trovato altro più importante ah le ruote dell'incubo scusate ruota dell'incubo è forte più che altro perché locca l'avversario capito devi togliere questa sicuramente io toglierei dragondata solare se devo essere onesto anche perché stanno scoperti in attacco non mi piace a sto punto togliamo i dancheto cioè abbiamo due intruglie che ci curano di mille e due anziché mille e possono anche fare danno barn preferisco questo a sto punto che urvine diffuse fan culo urvine diffuse via e dancheto questi li lascio più che altro perché oh un mostro ci sta averlo un mostro ci sta averlo sarebbe meglio venire da squala ecco qui sono i più forti aspetta c'è un altro fuoco tremendo un altro fuoco tremendo avevano trovato questi qua io per adesso li tengo più che altro perché ci aiutano a curarci a spam togliere io toglierei i fiamme finali cioè 600 life points mi sembrano davvero pochi 600 sono davvero pochi piano piano sostituiremo tutti piccate per pescare ma che ci servono ma dimitri tanto ci abbiamo tre poison che è più forte di anch'eto i poison perché ci curano di mille e due anziché mille più gli altri tre ma vediamo un po' abbiamo il deck giusto sì penso la magia continua quella non mi fa impazzire se devo essere sincero perché c'è devi tirare almeno tre carte di barn per fare 900 perché con due carte fai 600 tre carte di fila non è scontato averle quindi non mi piace tanto invece il mago che non mi ricordo come si chiama però è quello che ha le palle infuocate in mano anziché 300 e 400 ogni volta ma pure deve fare catena 5-6 io cioè dobbiamo togliere 150 life points al nostro avversario penso adà bene così non stiamo giocando un chain barn ok tic oh guarda quanti belli intrugli adesso questi sì che sono forti oh chi c'ha la carta per darci fastidio ma non ci fa niente vediamo un po' se mi fa uscire subito c'è basta semplicemente avere le non ho visto sorpreso vabbè la carta è inutile secondo me qua tiriamo dritto tanto vabbè i primi piani sono una cazzata da da battere c'è 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 pochissimo nulla per far subito del danno e vabbè nessun problema ceasefire è vero comunque fa ridere che gioca praticamente oppressione reale per me perché lui non ce l'ha life points per giocare a oppressione reale qui si è arrivato purtroppo 75 abbiamo perso è un dark world ci ha dato tic ma i primi piani sembra una barzelletta adesso rispetto a prima cioè letteralmente basta una qualsiasi carta e faccio un minimo di danno e perdono ok si esce tic siamo veramente una barzelletta adesso i primi piani che schifo ok ok un attimo che metto l'altro deck e prepariamoci gravekeepers ok dicevo prossima live la iniziamo proprio con l'evento di Hasselberry perché siamo arrivati a 5 cuori quindi questo sarà il primo evento dedicato alla storia del nostro personaggio anziché evento generico dove succedono cose generiche raga io vi ringrazio per essere rimasti in live vi saluto e vi do appuntamento a stasera alle 20 e 30 con league of legends va bene dai buon appetito a tutti per quando mangerete e ci picchiamo dopo ciao belli ci vediamo dopo ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.